Siamo con Dafne Bettini, una delle protagoniste di questa entusiasmante vittoria e rimonta sulla SIS Roma. Andando ti ringrazio per le belle parole, noi siamo venute qua con la voglia di vincere, in vista anche del prossimo impegno che abbiamo, ovvero a fine marzo della Final Four di Champions League a Sabadell, in cui incontreremo in semifinale Sabadell, siamo venute qua con l'obiettivo di vincere e non di partecipare. E di dare anche una grande prova di carattere. Esatto, comunque dopo la sconfitta proprio qua a Ostia, non qua ma al Babel, comunque contro la Roma, in casa della Roma, in cui abbiamo sbagliato completamente la partita, volevamo dare un segnale a punto positivo e l'abbiamo dato, quindi l'orizzonte c'è. L'orizzonte è tornata, la grande. Grazie.